Quando l'inquinamento diventa arte. È l'esperimento del Coppel Project Exchange che ha portato in mostra a Londra una serie di opere d'arte realizzate catturando l'aria contaminata della capitale britannica per mettere in primo piano la lotta ai cambiamenti climatici. La mostra è il frutto della collaborazione fra artisti visivi e scienziati che si sono messi all'opera per mettere l'inquinamento a disposizione della creatività artistica, come nel caso di questa opera di Alice Casnave intitolata Here are many worlds collied, una immagine eterea che evoca oceani ma che è stata realizzata in realtà catturando l'aria contaminata di Londra. Penso alla nostra situazione contemporanea e penso all'inquinamento e all'utilizzo di sostanze chimiche alternative per realizzare le fotografie, ha spiegato l'artista, quindi invece di utilizzare la gelatina di mucca che viene utilizzata nelle tradizionali carte fotografiche ed emulsioni, ho usato un'alternativa a base vegetale e quindi ho usato la lagar qui, così è un misto di pensiero del XIX e del XXI secolo. Here di Marina Vitaglione mostra figure astratte simili a pianeti realizzate con particelle di inquinamento, mentre Litz K. Miller ha trasformato in immagini i suoni della pioggia in Sound Sketch Forest Rain Sonic. Le opere sono esposte fino al 24 luglio in uno spazio commerciale in disuso nel centro di Londra in zona Piccadilly.